pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci propone il significativo incontro di gesù con quel tale passato alla storia come il giovane ricco è un testo molto importante che citando papa francesco può anche aiutarci a fare un test sulla nostra fede proviamo a scandire tre passaggi l'incontro lo sguardo l'invito primo l'incontro nel vangelo abbiamo questo tale che va da gesù e gli pone una domanda ecco anzitutto abbiamo un incontro con gesù miei cari la fede cristiana inizia proprio da questo incontro personale con gesù cosa vuol dire non che te lo trovi per strada lo saluti e ci fai due passi insieme e significa che c'è stato un momento nella vita nel quale ti sei sentito toccare interiormente dalla grazia di dio un momento nel quale è iniziata la tua conversione ti sei deciso ad aprirti a lui e ad andargli dietro a iniziare a pregare a frequentare la chiesa può essere accaduto mentre leggevi mentre qualcuno ti parlava di lui mentre eri in un momento di sofferenza insomma hai vissuto quel momento forte di incontro personale con lui se manca questo incontro manca il fondamento in tal caso sarebbe bene chiedere al signore la grazia di sperimentarlo vivo nella tua vita e in ogni caso chiedergli la grazia di ravvivare la gioia dell'averlo incontrato non solo questo tale chiede a gesù cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna è un desiderio nobile grande ma facciamo attenzione ai verbi che utilizza cosa devo fare per avere devo faccio ottengo ecco come questo tale sembra aver vissuto il suo rapporto con dio in modo freddo meccanico un dover fare per ottenere per avere qualcosa in cambio è un rapporto commerciale tecnicamente in latino si dice do ut des ma la fede ci ha ricordato il papa è una questione di libertà e di amore se l'abbiamo ridotta a una moneta di scambio e siamo fuori strada perché la salvezza è un dono è gratuita la prima cosa da fare dunque è liberarci di una fede commerciale meccanica che insinua l'immagine falsa di un dio contabile un dio controllore non padre e attenti purificare il nostro rapporto con il signore è un cammino talvolta ci rendiamo conto solo nel tempo delle nostre mancanze di gratuità spesso proprio nei momenti difficili ad esempio qualcosa non va come avevamo previsto o sperato o arriva il tempo della prova ed eccoci esclamare signore ma perché proprio a me che ho fatto del bene che ho fatto tanto per te è comprensibile lo sfogo per carità anche questo può essere una forma di preghiera ma in fondo potrebbe anche rivelare che tutta questa gratuità nel rapporto con dio ancora non c'è tutto questo ci fa chiedere cosa è per me la fede e come vivo la mia fede come una serie di cose da fare per averne in cambio altre o come un rapporto di amore e fiducia in qualcuno che ha cambiato la mia vita e le dà senso e pienezza secondo passaggio lo sguardo il vangelo ci dice che gesù fissatolo lo amò miei cari lasciarsi incontrare dal signore e lasciarsi incontrare da questo sguardo d'amore è bellissimo perché vedete gesù non si ferma al limite di quel tale o della sua domanda gesù guarda una persona che ama come ti guarda cristo così con amore ti guarda e ti ama sempre miei cari per essere credenti credibili per essere persone che diffondono la gioia del vangelo abbiamo bisogno di ripartire sempre da gesù dal suo sguardo d'amore dal lasciarci parlare al cuore dalla sua parola dall'accogliere la sua presenza nei sacramenti dal suo stare davanti a lui in adorazione dal contemplare il crocifisso insomma dal lasciarci amare da lui e più quest'amore si imprime nel nostro cuore più diventiamo capaci di amare gli altri e più la nostra vita diventa bella feconda gioiosa questo ci fa chiedere io mi sento amato da cristo mi lascio amare da lui anche quando cado nel peccato andandomi a confessare anche quando mi imbatto nei miei limiti e nelle mie fragilità sapendole riconoscere e ponendogliele davanti credo profondamente che lui mi ama non non nonostante i miei limiti ma con tutti i miei limiti terzo e ultimo passaggio l'invito gesù dopo aver fissato con amore questo tale gli dice se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti ed elenca quelli inerenti la rapporto con il prossimo e questo tale risponde io tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza e gesù una cosa sola ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrei un tesoro in cielo e vieni seguimi questa parola miei cari e per tutti chiaramente incarnandola nella diversità delle vocazioni ma è per tutti gesù vuol far capire a questo tale che per quanto si dia da fare da solo la vita eterna non se la può dare gesù è come se stesse dicendo quella pienezza che ti manca posso dartela solo io e poi sperimentarla fidandoti di me e amando come me ed ecco più puntualmente le parole di gesù in due punti primo va vendi e dona ai poveri gesù sprona questo tale a entrare nella logica del dare costui era fermo a ciò che non si doveva fare per carità non ha tradito non ha rubato non ha mentito ma probabilmente non ha nemmeno dato gesù gli chiede allora un passo in più dona donati miei cari vivere la vita cristiana non è soltanto non fare il male e soprattutto fare del bene amare come ha detto bene il papa noi spesso facciamo il minimo indispensabile mentre gesù ci invita al massimo possibile quante volte ci accontentiamo dei doveri mentre dio che ci dà vita ci chiede slanci di vita apriti al dono alla condivisione l'obiettivo di gesù miei cari era indicare a questo tale la via della vita gesù voleva riempire la vita di questo tale di volti di nomi ma costui se ne andò triste perché aveva molti beni i beni che possedeva lo hanno posseduto ed è rimasto solo questo miei cari ci fa chiedere quali sono le mie ricchezze che possono essere i beni materiali ma anche affetti attaccamenti progetti lavoro ambizioni che mi ostacolano nel seguire cristo che mi impediscono di donarmi di più e meglio alle persone che ho accanto come ha detto bene padre ermes ronchi nel vangelo molti altri ricchi hanno incontrato gesù zaccheo levi lazzaro susanna giovanna ma che cosa hanno avuto di diverso rispetto a questo tale una volta accolto gesù hanno saputo creare comunione zaccheo e levi riempiono le loro case di commensali susanna e giovanna assistono i dodici con i loro beni non porre dunque la tua ricchezza nell'accumulo ma nella condivisione ed è lì che potremo scoprire che c'è più gioia nel dare che nel ricevere dunque vai dona ai poveri si generoso e secondo vieni e seguimi se vuoi davvero una vita piena ci dice gesù se desideri imparare ad amare se aneli al cielo seguimi mettimi come centro della tua vita e allora sì che liberandoti dalle false sicurezze potrai fare della tua vita un dono d'amore d'altronde se ad esempio maturi di essere chiamato alla vita consacrato al sacerdozio per essere dono per tutti dovrai rinunciare a tutto e lungo il cammino non cercare arrampicate sociali niente corse ai primi posti ma ricerca dell'ultimo posto farti povero per rendere ricchi molti del suo amore se maturi di volerti sposare e dare la vita per quella donna o per quell'uomo dovrai fidarti di cristo e giocarti tutto senza lasciare via di fuga aperte e la tua sicurezza non potrà essere riposta nel fatto che lui sarà sempre all'altezza o che lei non ti deluderà mai o potrà riempire tutti i tuoi vuoti no perché solo dio può farlo la tua certezza deve essere cristo lui ti donerà la forza di amare e di perdonare sempre comunque nella gioia e nel dolore nella salute nella malattia e se il signore ti chiama a seguirlo nella via della sofferenza dovrai fidarti e affidarti a lui lasciando andare altri progetti e sicurezze per abbracciare la tua missione e seguire quella via al cielo che lui vuol percorrere con te in conclusione cari fratelli e sorelle chiediamoci seriamente a che punto è la mia fede ho incontrato cristo e come vivo il mio rapporto con lui come un dare per ricevere o come una risposta d'amore mi lascio guardare e amare da lui e attratto da lui corrispondo al suo amore donandomi generosamente non dimentichiamolo seguire cristo non è un discorso di privazione ma di moltiplicazione non rinuncia fine a se stessa ma rinuncia di quelle zavorre che ti tengono legato per volare verso l'alto e avere un cuore dilatato lasci tutto semplicemente per avere l'infinito infatti il vangelo continua pietra allora presa a dirgli signore ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito cosa avremo in cambio avrai in cambio cento volte tanto un cuore moltiplicato e un posto nel cielo preparato che il ci aiuti davvero a fidarci di lui certi che ne vale la pena che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti